le stelle di azus benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di azus l'oroscopo di mercoledì 7 agosto ariete la vostra testa è fra le nuvole perché l'amore manda dei segnali contrastanti che voi non riuscite proprio ad interpretare fatevi aiutare dagli amici toro l'entusiasmo provocato dalla luna in aspetto magnifico vi rende imprudenti in arrivo ci sono novità interessanti in amore vi sentite in grande forma gemelli la luna contribuisce ad accrescere il vostro nervosismo oggi sarà il caso di non prendere impegni stressanti per fortuna potete contare sulle persone care cancro situazione favorevole per il lavoro anche se in questo momento avete una gran voglia di evadere di avere più tempo libero a disposizione in amore ci sono tante possibilità di successo leone conviene mettere mano a tutti i problemi professionali che vi stanno mettendo in difficoltà se necessario chiedete aiuto il dovere viene prima di tutto vergine giornata positiva grazie alla luna nel vostro segno riuscita ad avere sempre l'entusiasmo giusto per risultare competitivi l'amore è passionale bilancia avete voglia di evadere di partire di godervi una bella pausa rilassante volate in alto con la fantasia e non vi concentrate sul lavoro l'amore arde di passione scorpione la luna magnifica vi rende intraprendenti avete una grande creatività da sfruttare fino in fondo non risparmiatevi soprattutto sul lavoro sagittario sul lavoro state attraversando un periodo delicato sarà bene tenere alta la guardia sarà una giornata stressante anche da un punto di vista sentimentale siete in difficoltà capricorno la luna è bellissima e crea le giuste premesse per un incontro d'amore positivo e rilassante anche il lavoro vi darà soddisfazione acquario l'amore comincia a darvi delle risposte di cui avete assolutamente bisogno basta non criticare continuamente il partner sappiate accontentarvi anche delle piccole cose pesci giornata con la luna contraria sarà difficile tenere a freno il nervosismo anche l'amore può riservare momenti difficili non dovete assolutamente calcare la mano e con l'oroscopo di oggi è tutto le stelle di azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina facebook l'oroscopo di azus l'oroscopo di azus